Ciao a tutti, siamo il Trio Canon e usiamo ancora una volta un metodo a distanza, però questa volta per una cosa bella, per annunciare un evento meravigliosamente in presenza. Con il direttore Antonio Greco e orchestra della Toscana per il concerto di domenica 18 a Montepulciano. Siamo contentissimi e non vediamo l'ora di essere a Montepulciano. Ringraziamo il Cantiere Internazionale per l'invito. Suoneremo un programma bellissimo che contiene nella prima parte musiche di Hentel e di Haydn e nella seconda parte suoneremo il triplo concerto di Vettore.